Oggi faremo per voi una buonissima parmigiana di pesce spada Tagliate il pesce spada a fette molto sottili e passatele in una padella antiaderente per pochi secondi Fate lo scolare dentro la scolapasta Nello stesso olio facciamo friggere la cipolla e facciamo il classico fumo Fate evaporare bene il vino Quando è finito di evaporare aggiungete prima una lattina di pezzettoni e poi un altro pochino di passata Le melanzane le ho grigliate al forno condite solo con un po' di sale e un filo d'olio Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti A dopo Ecco una bella porzione di parmigiana di pesce spada A voi tutti buon appetito e alla prossima